bene ragazzi ciao amici di fisherlandia allora facciamo un video velocissimo che vuole essere un video di integrazione è un video che vi linko qua sopra che abbiamo pubblicato qualche giorno fa sulla pesca col pasturatore a fondo bene in questo video vi faccio vedere la montatura col pasturatore e per evitare di ingarbugliare chiaramente io vi consiglio di usare un anti-tangle l'anti-tangle è questo andatevi a vedere il video per vedere che cosa intendo dire l'anti-tangle è questo io l'ho montato sempre in questo modo quindi parte alta verso l'alto parte corta verso basso ringrazio gli amici bravo gt nicola e piololne e tanti altri che su facebook mi hanno segnalato che invece loro lo montano in questo modo quindi vi ho fatto le due montature velocissime con un pezzo di lenza per farvi vedere la differenza perché voi sostenete che in questo caso la divergenza aumenta avete pienamente ragione ragazzi io utilizzando sempre anti-tangle corti quindi di questa misura come vedete la differenza fra la parte corta e la parte lunga è veramente irrisoria mentre invece in questi qua che sono di medio lunga come lunghezza è invece molto ampia e come potete vedere fisicamente la madre è qua e qua avrò il mio bracciolo quindi è molto soprattutto in partenza sul lancio è molto 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 vicino mentre invece in questo caso la differenza è molto ampia sicuramente sulla partenza di lancio avrò un anti ingarbuglia ancora maggiore è anche vero però che nel lancio ottengo più o meno la stessa risultato perché la differenza la divergenza lo fa la lunghezza dell'anti-tangle quindi e non la posizione di partenza ma sicuramente ragazzi avete ragione ho avuto il piacere oltretutto perché non me ne sono stato ancora proprio per darvi al massimo questa il mio parere quello che poi in realtà è il concetto delle aziende che producono queste cose ho avuto il piacere stamattina di parlare col signor alessio stoppioni titolare proprietario della stonfo che li produce le produce di diversi modelli diverse qualità di materiali e mi dice che in realtà non è sbagliato nel montaggio in un modo nel montaggio in un altro in realtà se ho bisogno di poca divergenza lo posso montare così se ho bisogno di tanta divergenza lo posso montare in questo modo ma io ragazzi d'ora in poi quando monterò l'anti-tangle lo monterò in questo modo come dite voi perché secondo me può avere soprattutto sulla partenza del lancio una divergenza maggiore ragazzi è bellissimo questo la bellissima la pesca è bellissimo questa cosa che si sta creando sul nostro canale youtube è bellissimo poter interagire con voi perché come vedete la pesca è veramente ampia e c'è sempre da imparare quindi mi fa molto piacere continuate a seguirci sulle nostre pagine facebook continuate a seguire soprattutto i nostri tutorial sulla pesca continuate a seguire le nostre presentazioni dei nuovi prodotti e soprattutto iscrivetevi al nostro canale youtube ragazzi a presto al prossimo video e come sempre che la pesca sia con voi anzi con voi con voi messo così ciao